Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo con gioia il Vangelo che anche oggi ci viene donato, un Vangelo che continua l'episodio di ieri, di Nicodemo, Giovanni 3, 7-15. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo, non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Gli replicò Nicodemo, come può accadere questo? Gli rispose Gesù, tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose. In verità, in verità io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Amen. Cari amici, oggi continua l'episodio di Nicodemo, che di notte va da Gesù. Di notte va da questo maestro, un nuovo maestro, che ha parole forti, piene di autorità, compie dei grandi segni e Nicodemo che tra i farisei, tra coloro che anche dubitano della divinità di Gesù, dubitano di quello che sta facendo, però è incuriosito. Dentro ha qualcosa che lo spinge a chiedere, a chiedere a Gesù stesso se è lui davvero il Messia. E lo chiede con queste domande che anche ieri abbiamo visto. E Gesù risponde dicendo che è necessario rinascere dall'alto. E in questa rinascita dall'alto Gesù parla di vento, di un soffio parla dello Spirito. Fratelli e sorelle, è importantissimo, se non fondamentale, per rinascere dall'alto, in Cristo, nella fede, è importantissimo lo Spirito Santo. Anzi, è fondamentale. Spirito che in greco è pneuma, che sarebbe un soffio, un vento. In ebraico ruach. E ruach in ebraico è questo vento. Gesù stesso parla a Nicodemo dicendo il vento soffia dove vuole, ne senti la voce, ma non sai dove va. Ma chi rinasce dall'alto viene trascinato, viene spostato da questo vento. Fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di vivere la nostra vita di cristiani nello Spirito Santo. Se noi, in questo tempo di Pasqua, fissiamo lo sguardo sui discepoli, anche su Pietro, che prima della passione morte di Cristo, era un certo tipo di persona. Di certo non aveva ancora tutto il coraggio che avrà avuto dopo nella predicazione. Una volta che Gesù è stato preso, condannato, Pietro lo ha rinnegato, ha avuto paura. Una volta che Gesù è risorto, Pietro sempre si sentiva male, aveva una nuova speranza, ma ancora non aveva la pienezza di fede in Gesù. Pur vedendolo, perché Gesù stesso lo aveva detto, rimanete in città finché non avverrà e non si realizzerà la promessa data dai profeti. Cioè che lo Spirito Santo scenderà su di voi e avrete forza dall'alto. Ecco che Pietro e i discepoli, Atti degli Apostoli, capitolo 2, ricevono lo Spirito Santo, sono nuove persone. Lo Spirito scende e lo dice, in Atti 2, come un vento impetuoso. Ecco Giovanni 3, Nicodemo. È Gesù che gli dice, il vento soffia dove vuole. Per rinascere dall'alto, fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di fare un'esperienza dello Spirito Santo. Ecco perché in questo tempo pasquale, nelle prime letture, c'è sempre il Libro degli Atti e degli Apostoli, ma soprattutto ci sono esortazioni a invocare lo Spirito Santo, che è fondamentale nella vita di ogni credente. Per rinascere dall'alto, per rinascere a vita nuova, fratelli e sorelle, abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Pietro è cambiato quando lo Spirito è sceso su di lui. Questo ruach, questo vento impetuoso è sceso su di lui, lo ha assorbito, lo ha riempito e ha iniziato a proclamare che Gesù è vivo, che Gesù è il Signore. Carissimi amici, non smettiamoci mai. Anzi, non esista un giorno in tutta la nostra vita in cui noi non invochiamo lo Spirito Santo. Quindi ogni giorno, nelle nostre preghiere, dopo la lettura della parola di Dio, dopo la nostra invocazione, la nostra lode a Dio, o i nostri momenti assembleari, quindi celebrativi, eucaristici, invochiamo lo Spirito Santo. Il modo più semplice e migliore è solo dirgli, vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. Perché così Lui vede che tu sei disponibile a cambiare. Lui vede, Dio vede che tu hai un cuore aperto. E non sei come Nicodemo che dice, come è possibile, ma io non lo so, ma pensavo, ma forse non è il caso, io sto vivendo in un altro modo. Vieni Spirito Santo. Questa è la nostra forza. È lo Spirito Santo che ci fa rinascere dall'alto. E io, come vi ho raccontato ieri, l'esperienza con la mia famiglia, ho fatto questa esperienza. Nel 1989, erano a Pentecoste, abbiamo invocato lo Spirito Santo con la nostra comunità, nella Quellonia Giovanni Battista, è sceso e io ho fatto questa fortissima esperienza. È lì che sono rinato, a vita nuova. È lì che ho sentito e ho detto per la prima volta, Dio, ma davvero tu esisti. Davvero tu ci sei, perché io ti sento nel mio corpo. Sento che sei tu. Allora ti invito, carissimo, a invocare oggi lo Spirito Santo, ma questa preghiera la dovrai fare ogni giorno, perché è solo Lui che ci fa rinascere, vita nuova, e ci fa vivere in Cristo e nella Sua parola. Vieni Spirito Santo oggi come un vento, vieni nelle nostre vite, Spirito Santo scendi, scendi con la Tua luce, scendi con il soffio di vita, scendi e guidaci alla verità, scendi e guidaci per le Tue vie, Spirito Santo. Donaci oggi di fare una nuova esperienza di Te, di Te che ci guidi, di Te che ci aiuti, di Te che ci sostieni, di Te, Spirito Santo, che ci consoli di Te, Spirito Santo, che sei davvero la nostra forza. Grazie perché non ci deluderai, grazie perché sei al nostro fianco, Spirito Santo, e ci guidi alla parola, ci guidi a Cristo, ci guidi al Padre. A Te sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Quindi, cari amici, Gesù dice a Nicodemo e a noi dovete rinascere dall'alto. Come farlo? Vieni Spirito Santo, invocalo più volte durante la giornata e Lui si farà sentire, perché è presente già nella tua vita. Grazie che mi avete accolto, buona giornata, a domani. Ciao! Salvatore e risorto vive in mezzo a noi Andiamo, oh, gridiamo, Gesù vive, andiamo, oh, gridiamo, Gesù vive, Campiamo, Alleluia, gridiamo, Alleluia, Campiamo, Alleluia, gridiamo, alleluia, andiamo, grida, Gesù vive, andiamo, gridiamo, Gesù vive, Campiamo, Alleluia, gridiamo, alleluia, alleluia, Campiamo, alleluia, gridiamo, alleluia, Grazie a tutti.